Quali aspetti critici del DVR normalmente sono sottovalutati dalle aziende? Sottovalutati, sì. Devo dire che qui il discorso può essere duplice. Da una parte ci sono rischi tradizionali, rischi sulle macchine, rischi nei cantieri. Quindi qui la trascuratezza è ancora più grave. C'è però tutto un settore di nuovi rischi che ormai gravano sul mondo del lavoro. Nuovi non nel senso che prima non esistessero, ma sono rischi di cui si è cominciato a prendere consapevolezza. Non so, i ritmi lavorativi un tempo erano un tema di cui non si parlava proprio. Invece ora sono entrati nella giurisprudenza della prestazione. Questo vuol dire che anche i ritmi lavorativi devono formare oggetto di una valutazione del rischio. Quindi una impresa deve aprirsi ai rischi tradizionali ma anche ai rischi enormi. E quali sono le conseguenze di un DVR incompleto o non aggiornato? Le conseguenze derivano dal fatto che l'obbligo di valutazione del rischio è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Quindi questo vuol dire che se un certo rischio non è stato valutato o è stato valutato ma mal valutato nel documento, la responsabilità primaria è dello stesso datore di lavoro. E questo fa capire perché il mestiere di datore di lavoro è un mestiere difficile e non è molto gradito. C'è un settore in particolare in cui le aziende si trovano più spesso DVR non aggiornati? Devo dire che uno potrebbe pensare che sono più le piccole e le medie aziende, ma invece non è così. Anche la grande azienda purtroppo incorre nella sottovalutazione dei rischi. Cioè qui occorre davvero una maggiore diffusione della cultura sui rischi lavorativi. E questo è un po' un difetto, anche perché probabilmente individuare il rischio vuol dire anche individuare le misure di prevenzione contro quel rischio. E questo vuol dire anche i costi della prevenzione. E lei che cosa si aspetta di trovare in un DVR aggiornato? Ah, quello che cerco quando vedo dei DVR, le prime cose che cerco è se sono valutati i rischi come lo stress e lavoro correlato, il mobbing, l'alcol e la droga. Insomma tutta quella serie di rischi a cui un tempo non si faceva mai riferimento. Come si pensa di affrontare ad esempio uno dei problemi più importanti di organizzazione aziendale, che è quello della sicurezza dei lavoratori che vengono distaccati presso altre aziende. Un capitolo dedicato a questo spesso non lo trovo.